bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa anteprima veramente scottante ragazzi per tutti gli amanti della saga di assassin's creed ma guardatela ma quanto bella è sta skin ragazzi favolosa ma eccolo qua i suoi picconi poi la skin con la sua emote spettacolare e avrà un secondo stile lo stile Ezio Auditore mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un bel like ed attivate la campanellina